Venerdì 13 marzo 2020. Roma, via Nomentana, 8 e un quarto di sera. Una macchina guidata da una suora con il volto coperto da una mascherina non rispetta la precedenza. Un prete in motoretta è costretto a fermarsi bruscamente a pochi centimetri dall'auto. Non succede niente. Il prete guarda la suora. Lei stenta a ripartire. Nessuno fa commenti, ma lo sguardo leggermente livido dell'uomo denuncia ciò che sta pensando. Le donne a casa. Mi scusi, si è fatto male? Sa, sono giorni complicati. Irrompe la suora. Il prete non risponde. In pochi secondi sul luogo spunta una pattuglia della polizia per chiarire la situazione. Che succede qui? Perché non siete a casa? Avete l'autocertificazione per uscire di casa? Domanda il poliziotto. Sì, sono un'assistente sanitaria dei gemelli. Sto andando al lavoro. Risponde la donna senza togliersi la mascherina dalla bocca. Lei, padre? Domanda ora la gente al sacerdote. No, non ho come il foglio. Accenna tipidamente. Perché è in giro? Devo tornare in canonica. E dove è stato fino ad ora? Da mia sorella, risponde genuinamente il prelato, pur di non commettere peccato. Non saprebbe a chi confessarlo. Non dovrebbe andarci, le disposizioni sono chiare. Bisogna uscire solo in caso di emergenza, portando con sé l'autocertificazione stampata. Perché è andato da sua sorella? Non so cucinare, ammette il sacerdote con una puntina di vergogna. La sora sorride. Il suo sguardo leggermente affettuoso denuncia ciò che sta pensando. Gli uomini non avranno sempre bisogno delle donne. E tu, ragazzino? Cosa guardi? Non vedi che è verde? Urla a me il poliziotto, voltandosi di scatto e rimproverandomi. In sella al motorino mi avvicino a loro. Alzo la visita del casco per motivare la mia presenza. Ma la gente con un cenno mi invita a tirare diritto. Dunque mi allontano da quella scena, alternando curiosità ad inquietudine. Me ne torno a sfrecciare con il mio motorino tra le strade di una Roma deserta, nel mio quartiere a nord-est della città, con un baule nero portapizze, per soddisfare le esigenze dei clienti, costretti dal crescere della diffusione di una pandemia e a rimanere a casa. La quiete apparente di una città misteriosa e silenziosa si è fatta tutto ad un tratto inquietudine. Semaforo dopo semaforo, strada dopo strada, silenzio dopo silenzio, quel venerdì sera sta assumendo sempre più tratti di un giorno indefinito. I canti dai balconi sono diventati motore di vita per l'uomo comune, mentre la sopravvivenza delle anime e del paese è affidata alle anime calde e premurose dei medici in prima linea. Le interminabili file di macchine si sono trasformate in interminabile file di esseri umani di fronte ai fornitori di beni di prima necessità, supermercati e farmacie, e tabaccai. L'Italia non smette di fumare. I clacson hanno lasciato il posto alle urla di ammonimento, rigorosamente seguite in stretto dialetto, pur di incitare il prossimo a scegliere più velocemente i prodotti da comprare. I fiori sono pronti a sbocciare sugli alberi, ma attendono trepidanti i propri amanti più fedeli, i fotografi. Le mura della città stanno a guardare, in attesa che i loro cari abitanti tornino ad affollare le piazze. E talvolta gli occhi cadono sulle veloci e silenziose passeggiate di uomini di potere che, mai come oggi, attraversano le strade, indisturbati ma timorosi. Il traffico aereo e stradale si è improvvisamente fatto da citurno. Gli aerei che atterrano possono contenere solo i ripatriati. L'Italia è stata resa interamente zona protetta. Si può uscire solo per andare al lavoro, per chi ne ha ancora uno, o per acquistare beni di prima necessità. Gli spostamenti sono stati limitati ed è prevista una multa e la reclusione nel caso in cui si sia sorpresi fuori casa senza una buona motivazione, a qualunque ora del giorno e della notte.